Importanti conferme di pubblico e di risultati per la decima edizione di Forum Club, l'unica manifestazione business to business per i settori fitness, wellness e acquatico, che si è svolta dal 20 al 25 febbraio 2009. L'evento ha registrato più di 5.000 presenze nell'area espositiva e circa 700 partecipanti al congresso. Numeri importanti dovuti anche all'affermazione del nuovo evento Forum Piscine, che, svoltosi in concomitanza con Forum Club, si è dimostrato il vero e proprio punto di riferimento per il comparto acquatico. La fotografia è, dunque, quella di un settore che, nonostante il difficile scenario economico, guarda al futuro con fiducia e voglia di crescere. Soddisfazione è stata espressa dagli operatori che hanno preso parte al congresso a iscrizione di Forum Club. Con un programma ricco e diversificato, il congresso ha saputo rispondere alle più diverse esigenze di formazione e aggiornamento di titolari, manager, responsabili, trainer e operatori di fitness e wellness club, centri benessere, centri sportivi e acquatici. Sono stati molto apprezzati anche gli eventi che sono stati molto apprezzati anche gli eventi e gli eventi ad ingresso libero organizzati sia nell'area Forum Club sia nell'area Forum Piscine, da alcune delle oltre 100 aziende del settore del wellness e delle piscine, protagoniste dell'area espositiva dei due eventi. Nel corso del cocktail che ha animato il tardo pomeriggio del sabato, si è svolta l'annuale assegnazione del premio Il Nuovo Club, giunto alla terza edizione e promosso dall'omonima rivista. Appuntamento al 2010 con l'undicesimo Forum Club.